e diamo inizio alla prima delle conferenze di quest'anno. L'anno scorso il tema che scegliemmo era l'unità fra i cristiani in cammino, cercando di evidenziare più che le differenze che purtroppo ci sono e non vanno negate, ciò che di fatto unisce i cristiani, cioè di offrire uno sguardo positivo su quello che è la differenza all'interno della variegazione del mondo che i cristiani hanno formato pur con le loro divisioni e vedendo cos'è che in fondo li univa. Vi ricordate l'immagine che il Papa ci dava era quella del martirio del sangue e quindi di una comunione nella testimonianza a costo della vita. Quest'anno il tema è quello che abbiamo tratto dall'esortazione che il Papa ha fatto all'Episcopato italiano a Firenze a mettere a fuoco l'umanesimo cristiano, la visione dell'uomo che deriva dal cristianesimo e per questo il ciclo di conferenze di quest'anno che iniziamo questa sera con Monsignor Nunzio Galantino, segretario generale della CEI, appunto ci aiuta, ci introduce alla tematica di quest'anno e ci aiuta ad entrare nel cuore di quanto il Papa desiderava che noi, che l'Episcopato italiano in primis, ma attraverso l'Episcopato potremmo dire tutti i cristiani, tutti i cattolici mettessero a tema quest'anno la visione dell'uomo che dal cristianesimo deriva. Una immagine che mi piaceva dare all'inizio è proprio tratta dal Vangelo di Giovanni dove nel prologo, alla fine del prologo ci viene detto che nell'umanità di Gesù ci viene data la doxa di Dio, la gloria di Dio, ma lo stesso Giovanni più avanti nella scena della passione attraverso come dire Pilato ci dice che Gesù è anche la doxa dell'uomo, ecco l'uomo, è l'immagine autentica dell'uomo e dato che noi cristiani abbiamo una proposta su quella che è la realtà dell'uomo che guardando a Gesù possiamo costruire, ci sembrava veramente importante accogliere l'invito del Papa e farci accompagnare in questo primo incontro dalla personalità che il Papa ha voluto fosse segretario generale della CEI, Monsignor Galantino, il quale quando lo invitai accettò immediatamente parlando di un debito che aveva avverso la compagnia e potremmo dire forse che la compagnia avverso di lui perché per meno 35 anni ha insegnato nella nostra facoltà teologica dell'Italia meridionale dove ha conseguito tra l'altro la sua licenza e il suo dottorato in teologia. Il Monsignor Galantino è laureato in filosofia in primo luogo all'Università di Bari con una tesi intitolata l'antropologia di Bonheffer come premessa al suo impegno politico e anche il dottorato in teologia verte su Bonheffer la storicità come fedeltà alla terra in Dietrich Bonheffer. Appunto è diventato poi professore aggiunto, professore associato, professore straordinario, infine ordinario dal 2002 fino al 2012 quando è divenuto professore merito. Nel 2011 Papa Benedetto lo aveva nominato vescovo di Cassanio all'Oionio e poi Papa Francesco nel 2013 lo ha nominato segretario generale ad Interim perché Monsignor Galantino ha desiderato conservare la sua attenzione al popolo che gli era stato affidato quindi alla sua diocesi che gli ha fatto l'esplicita richiesta al Papa di lasciarlo anche alla guida della diocesi. Nel 2014 invece credo che il sogno sia infranto perché la conferenza episcopale italiana... Mi dissi Papa che bastava un anno e un mese di disobbedienza... Per cui allora adesso segretario generale della CEI. Una particolare anche attenzione di Monsignor Galantino è riservata al pensiero di Antonio Rosmini del quale ha curato l'edizione critica delle cinque piaghe di Rosmini. Ecco, io non vorrei dire di più, avrei molte altre cose, ho contato, sono almeno 23 le pubblicazioni che portano il nome di Monsignor Galantino, ma a questo punto occuperei molto del tempo che invece vogliamo riservare a lui appunto nel tessere quella che è la sua biografia. Desideriamo a questo punto ascoltarlo. e ridiamo per questo la parola, eccellenza. Prego, due. Quando sento tutte queste cose, anche con lo sconto che mi ha fatto il padre Barlone, mi sembra già di vedere il coccodrillo che prepareranno quando sarà finito questo teatro. Va bene. Sì, è vero quello che diceva il padre Barlone, ho accolto subito l'invito a venire qui perché davvero avverto questo senso di gratitudine nei confronti della compagnia di Gesù che mi ha sopportato a vicenda, si capisce, non l'ho detto così, ma si capisce subito. Chi vi conosce sa che fa parte del pacchetto, no? Però ecco questa esperienza molto bella che ho fatto con loro, dove, devo dire la verità, la facoltà teologica per me a Napoli, Villa San Luigi, perché io ero con i padri, non era soltanto un luogo di lavoro. Questo è vero. Però andiamo subito un po' al tema che mi è stato affidato. E voglio subito, voglio cominciare dicendovi come ho interpretato e come ho svolto il compito che mi è stato affidato. Ho cercato di leggere, ho cercato di collocare il tema Un Dio per l'uomo, ho cercato di collocarlo all'interno dell'obiettivo generale, un po' della serie dei martedì alla Gregoriana, un tema generale chiamati a vivere l'umanesimo cristiano. Bene, e a proposito proprio di umanessimo e di umanessimo cristiano, voglio ricordare subito quello che Papa Francesco ha detto a Firenze, ai delegati al quinto convegno nazionale, quando ha affermato che dobbiamo ricordare che non esiste un umanessimo cristiano, non esiste un umanessimo autentico che non contempli l'amore. L'amore come vincolo tra gli esseri umani, sia di natura interpersonale, intima, sociale, politica o intellettuale. Quindi, ci ricorda il Papa, non esiste, non esiste un umanessimo autentico che non contempli l'amore. E lo sappiamo tutti quanti. Amore è il nome di Dio per l'uomo. Il suo nome è amore. Sicché, senza operare una forzatura, mi sembra di poter dire che riflettere su un Dio per l'uomo vuol dire riflettere sul fondamento dell'umanessimo cristiano, ma vuol dire soprattutto riflettere sul Dio amore, sul Dio che si pone in strada con l'uomo. Il Dio per l'uomo è infatti il Dio che in Gesù si è fatto Emmanuel, e il Dio che in Gesù si è fatto Dio con noi. Un Dio che evidentemente ha poco o nulla a che fare con il Deus in Altissimis. E visto che il Padre Sandro ha ricordato i miei trascorsi nell'altra vita, Bonhoefferiani, vorrei che non consideraste una digressione quella che adesso vi propongo. Il teologo luterano Bonhoeffer ha pagine estremamente chiare nelle quali marca in maniera evidente la differenza tra il Dio per l'uomo e il Deus in Altissimis. E comincia con l'avvertire che il Deus in Altissimis confina Dio in una solitudine inaccessibile, raggiungibile soltanto attraverso una religione fatta di sentimenti e di aspirazioni, frutto di un dualismo più radicale del dualismo platonico. All'interno di questa concezione del Deus in Altissimis, avverte Bonhoeffer, il rapporto tra Dio e gli uomini viene visto in termini di lotta. Il rapporto tra Dio e gli uomini viene visto come una lotta che evidentemente finisce sempre con la vittoria del Deus in Altissimis, al danno dei più deboli, quindi altro che un Dio per l'uomo. Il Deus in Altissimis si pone dalla parte dei potenti, riducendosi a un superconcetto, riducendosi all'essere più alto, più potente, più buono, con il quale è possibile stabilire un rapporto soltanto tra virgolette religioso, nel senso in cui lo intendeva Bonhoeffer. E Bonhoeffer rifiuta ovviamente la trascendenza del Deus in Altissimis, una trascendenza legata all'idea di un Dio lontano dall'uomo e perciò diverso dalla rivelazione biblica che invece attraverso Gesù ci fa conoscere ed incontrare un Dio che attua il futuro dell'uomo, impegnandolo come suo partner. Molto bella un'espressione a questo proposito di André Dioumà, il quale in un libro molto bello, in teologie della realtà, nella quale affronta in maniera critica ma anche abbastanza interessante la teologia Bonhoefferiana, a proposito di questo Dio per l'uomo che sceglie l'uomo come partner per la realizzazione del suo futuro, scrive questo, una cosa molto bella, a me piace molto, dicendosi partner ed alleato dell'uomo e non delle gerarchie celesti né delle potenze cosmiche, Dio sceglie di privilegiare nella libertà del suo amore l'aldiquà e al suo interno l'uomo. Questi è visto come il suo unico interlocutore al centro della intera creazione. L'alternativa al Deus in Altissimis, allora qual è? L'alternativa al Deus in Altissimis è il Dio per l'uomo. E scrive Bonhoeffer, sentite, no? scrive in quel bellissimo commento molto molto breve da Rai Home, venga il tuo regno, scrive questo, sentite, il Dio per l'uomo, quindi l'alternativa a Deus in Altissimis, è colui che si mette dalla parte della terra e infrange la maledizione. La terra che Dio accetta è la terra che Egli sostiene, la terra caduta nel peccato, perduta, maledetta. Egli si mette dalla sua parte come opera delle sue mani. Allora, se vogliamo approfondire questa scelta di Bonhoeffer così utile per illustrare il tema affidatomi, un Dio per l'uomo, dobbiamo ricordare che Bonhoeffer abbandona, un po' più dentro, abbandona la trascendenza, chiamiamola così, gnoseologica, sostituendola con la trascendenza relazionale. In questa Bonhoeffer indica l'autentica esperienza della trascendenza, l'esserci per gli altri. La stessa trascendenza della quale, con termini diversi, ha parlato Papa Francesco ai delegati al convegno ecclesiale quando ha affermato che la differenza tra la trascendenza cristiana e qualunque forma, io penso che questo è importante, guardate perché c'è una confusione in tutto questo, la trascendenza cristiana, la differenza tra la trascendenza cristiana e qualunque forma di spiritualismo gnostico sta nel mistero dell'incarnazione. non mettere in pratica, continua il Papa, non condurre la parola alla realtà, significa costruire sulla sabbia, rimanere nella pura idea e degenerare in intimismi che non danno frutto, che rendono sterile il suo dinamismo. Allora la trascendenza di relazione propria del Dio biblico, afferma Bonhoeffer, è quella che si fa il rapporto dialogico io-tu. E consegue che la verità dell'uomo è l'umanesimo cristiano che qui noi, si dice, siamo invitati a vivere, consiste nel riprodurre nella propria esistenza, nell'esistenza, la forma dell'esistenza di Cristo, indese essenzialmente come essere per gli altri, cioè come essere in relazione, relazione gratuita, relazione responsabile. Sta qui il fondamento dell'umanesimo cristiano che, ripeto, veniamo invitati a vivere, ad accogliere. Bene, sulla base di queste prime considerazioni mi domando, domando con voi, chi è il Dio per l'uomo se non colui che con la sua vicinanza in Cristo ricompone, come afferma ancora Francesco, la nostra umanità anche quella frammentata per le fatiche della vita o segnata dal peccato e questo è il Dio per l'uomo, colui quale ha come compito, si dà come compito questo, ricomporre la nostra umanità anche quella frammentata per le fatiche della vita o segnata dal peccato è questo il Dio che ci chiama a vivere un nuovo umanessimo, l'umanessimo cristiano invitandoci a fare le nostre, a fare nostre le sue logiche, a fare nostro il suo stile. Potremmo dire come recita il titolo di un bel testo di Theobald, di Christophe Theobald il cristianesimo come stile potremmo dire ma ce l'hanno ripetuto anche gli ultimi pontefici in maniera io direi affettuosamente ossessiva potremmo dire che l'umanessimo cristiano è questione di stile lo stile di Dio che è un Dio per l'uomo l'umanessimo cristiano cresce e lo si vive nella maniera in cui lo stile di Dio quello di cui parlava prima Bonhoeffer lo stile di Dio diventa il nostro stile di vita diventa lo stile di vita della Chiesa e a questo proposito voglio fare un piccolo passo avanti per definire i caratteri dell'umanessimo cristiano che veniamo chiamati a vivere può tornare utile riprendere tra le mani la traccia la traccia che ha guidato la Chiesa italiana verso il quinto convegno ecclesiale di Firenze nel novembre nel novembre scorso ricordate tutti quanti che il titolo era in Cristo Gesù un nuovo umanessimo bene nella nella traccia si ricorda che umanessimo è a ben considerarne la storia umanessimo è un termine che si declina al plurale è l'umanessimo nuovo in Cristo è un umanessimo sfaccettato e ricco di sfumature prismatico prismatico l'ha definito qualcuno dove solo nell'insieme dei volti concreti di bambini e anziani di persone serene o sofferenti di cittadini italiani e di immigrati venuti da lontano solo in questi volti concreti emerge la bellezza del volto di Cristo c'è gente che pensa ancora che si può servire Cristo si può contemplare il volto di Cristo mettendo tra parentesi tutte queste realtà come l'ho già detto in un'altra circostanza mi sembra assolutamente fuori posto fuori posto il consenso che viene dato ad alcuni movimenti che lodevolmente difendono la presenza del crocifisso nelle aule pubbliche ma poi quando quel crocifisso da crocifisso di plastica o anche d'oro o anche di legno si allontana dal muro e diventa la carne sofferente di Cristo allora quelli li posso prendere a pedate nel sedere questo non ha senso quindi della traccia ma è un po' nel nello statuto dell'umanesimo cristiano non è possibile non è possibile parlare di umanesimo cristiano se non si è in grado ma con i fatti con i fatti di riportare a Cristo questi volti queste storie queste realtà queste realtà l'accesso all'umano di fatti si rinviene imparando a iscrivere nel volto di Cristo tutti i volti perché egli ne raccoglie in unità i lineamenti come pure le cicatrici questo dice la traccia ma tornerò un po' su questo è possibile quindi vedere e proporre un nuovo umanesimo un umanesimo cristiano solo mettendo in atto scelte concrete ed accettando delle vere e proprie sfide quali sono queste sfide che oggi come credenti o comunque come uomini di buona volontà veniamo chiamati ad accettare se vogliamo sentirci tra virgolette arruolati tra coloro i quali di questo umanesimo non parlano soltanto ma si rendono protagonisti veri quali sono queste scelte prima di tutto il partire dall'ascolto del vissuto riconoscendo la bellezza dell'umano in atto pur senza ignorarne i limiti ancora il privilegiare un umanesimo incarnato capace di riconoscere i bisogni anche meno manifesti e di immaginare azioni di risposta adeguate non ossessionate dall'efficienza ma capaci se necessario di eccedere persino la domanda ancora è possibile proporre un nuovo umanesimo e vivere un nuovo umanesimo un umanesimo cristiano coltivando e salvaguardando gelosamente un umanesimo fatto anche di interiorità e di trascendenza innervato da esperienze di incontro orante di preghiera personale e comunitaria di affaccio io direi di affaccio rispettoso rispetto o sull'alterità di Dio e anche sull'alterità di ogni uomo capite che si tratta di sfide tutt'altro che irrisorie che è chiamato ad accettare chi intende vivere l'umanesimo cristiano allora quella di accogliere e di vivere accogliere per vivere un umanesimo prismatico sfaccettato e soprattutto quella di tentarne un'iscrizione nel volto di Cristo sono opzioni sono operazioni sono esercizi niente affatto scontate nell'attuale clima culturale perciò la sfida è bella oggi è grande oggi perché l'attuale clima culturale non va assolutamente in questa direzione perché dico questo l'attuale clima culturale è più propenso a livellare le differenze che ad armonizzarle è più propenso a globalizzare nel senso deteriore del termine piuttosto che a comporre ciò accade spesso in sordina si riduce spesso a un semplice la logica del confronto tanto rivendicata negli slogan della politica e anche dei talk show si riduce spesso a un semplice rimescolamento delle prospettive si riduce spesso a un appiattimento di voci e di differenze da cui è possibile a mio parere desumere soltanto due cose prima di tutto l'autoreferenzialità del singolo sempre più solo e abbandonato a se stesso e poi la frammentazione del vissuto mancante di mappe e privo di principi guida ancora nella traccia si legge che la traccia ripeto che ha preparato il convegno ecclesiale di Firenze si legge in questa fase di grandi cambiamenti culturali assistiamo non semplicemente al confrontarsi e a volte al confondersi di molte prospettive sull'umano bensì anche al frantumarsi e allo smarrirsi dello sguardo il crollo di ideologie continua la traccia di ideologie totalizzanti lascia il posto a nuove visioni e all'affermarsi di nuovi saperi che pretendono di descrivere e spiegare i comportamenti umani tramite automatismi e processi calcolabili nel modo di vivere prima ancora che sul piano teorico si diffonde la convinzione che non si possa neppure dire cosa significhi essere uomo e donna lo sappiamo questo lo sentiamo continuamente tutto sembra liquefarsi in un brodo di equivalenze nessun criterio condiviso per orientare le scelte pubbliche e private sembra resistere e tutto si riduce all'arbitrio e alle condingenze quando questi arbitri e queste condingenze non si pretende che diventino legge per tutti esistono continuo ancora la lettura esistono solo situazioni bisogni ed esperienze nelle quali siamo implicati schegge di tempo e di vita spezzoni di relazioni da gestire e da tenere insieme unicamente con la volontà o con la capacità organizzativa del singolo finché ce la fa e allora non stupisce che a questo livellamento non sfugga nemmeno l'idea di trascendenza alla quale ho fatto cenno poco fa una trascendenza per lo più ignorata o nel migliore dei casi ridotta a un generico sentirsi attratti o proiettati da o verso qualcosa o verso qualche idea non ben identificata tanto da aver fatto affermare a Levinas in un breve articolo del 1935 che il paganesimo non è la negazione dello spirito né l'ignoranza di un dio unico il paganesimo è un'impotenza radicale a uscire dal mondo non consiste nella negazione degli spiriti a degli dei ma nella loro collocazione nel mondo la morale pagana continua Levinas è soltanto la conseguenza di questa incapacità fondamentale a trasgredire i limiti del mondo il pagano è rinchiuso in questo mondo che basta a se stesso chiuso su se stesso lo giudica solido e ben stabilito lo giudica eterno regola su di lui le sue azioni e il suo destino chiamati a vivere l'umanesimo cristiano basterebbero allora queste osservazioni per comprendere che se c'è una sfida coraggiosa una sfida alternativa una sfida di segno diverso io direi quasi eversivo sul piano della proposta di un nuovo umanessimo è proprio la sfida raccolta per giunta programmaticamente dal cristianessimo proprio laddove la contemporaneità sembra sfuggire a un impegno di sintesi la fede cristiana si getta nella mischia spendendosi per una globalità non livellante superando barriere e cercando di incontrare quelle periferie dell'umano che proprio una certa modernità ha messo al bando investendo tempo e risorse non alla cieca ma con il preciso intento di ricomporre in armonia senza schiacciarle tutte le differenze e guardate che in senso contrario a questo si muovono tante realtà culturali e non soltanto in quella che chiamiamo la cultura laica anche all'interno della nostra cultura della cultura cristiana e cattolica cioè questa foga dell'appiattimento questa foga del pensiero unico per cui se anche sulle modalità tu non la pensi come me tu sei un dannato tu sei condannato a prescindere poi dal fatto che spesso non si conosce manco quello che l'altro ha detto ma questo è un fatto purtroppo costante ma quello che mi preoccupa è proprio questo rifiuto questo farsi venire l'orticaria tutte le volte in cui si parla di confronto di dialogo di incontro con l'altro l'altro non inteso come la riproduzione di me stesso ma l'altro inteso come alter e non come alienus come amava dire Emmanuel Mounier ed allora ecco visto che siamo qui in un tempio della teologia permettete che non voglio togliere i mestieri a nessuno anche perché ripeto era nell'altra vita posso continuare un altro poco non siete ancora addormentati va bene allora un altro poco allora ripeto non voglio togliere i mestieri a nessuno però visto che siamo qui io penso che in questo quadro ma mi riferisco soprattutto a quello che ho detto poco fa ecco in questo quadro il ruolo della teologia si rende a mio parere evidente perché perché la teologia subendra quando si tratta di sciogliere il nodo l'enigma per alcuni lo scandalo per altri quando si tratta di sciogliere il nodo di spiegare come e perché tanti lineamenti diversi frammentati distanti e a volte ostili gli uni verso gli altri possano e debbano essere iscritti nell'unico volto di Cristo questo è il ruolo a mio parere della teologia oggi in questo ambito particolare ad essere chiamati in gioco cioè è l'intelligibilità di testi come Gaudium e Spes 22 in cui è detto chiaramente che solamente nel mistero del verbo incarnato trova luce il mistero dell'uomo allora credo che la teologia deve intervenire proprio a questo livello non quindi per trarre nell'immediato conclusioni operativi o pastorali che possono essere demandate ad altri ordini di riflessione ma a livello fondativo laddove si tratta cioè di rendere ragione di una credibilità previa al volere e al potere e quelle domande che io vi pongo e pongo ai teologi oggi sono queste perché nel mistero del verbo incarnato trova vera luce il mistero dell'uomo tutti lo affermiamo ma perché perché cosa fa di tante storie davvero faticose e di tanti corpi straziati la carne sofferente di Cristo cos'è perché è una frase romantica è una frase bella che colpisce o c'è un motivo serio su questo più concretamente perché non possiamo girarci dall'altra parte non è una scelta etica ma nel senso marginale della parola se non c'è questo non c'è cristianesimo no ma io faccio altre cose ma i miei professori di morale mi insegnavano bonum ex indegra causa malum ex quocungue defecto non è che io faccio altre cose e posso venire meno a questo perché perché concretamente non possiamo girarci dall'altra parte perché non possiamo passare oltre se vogliamo essere protagonisti di un umanessimo no perché ecco non voglio togliere ripeti il mestiere nessuno però io una risposta ce l'avrei e sta nel titolo che voi mi avete affidato la risposta sta nel fatto che crediamo in un dio per l'uomo che in Gesù ci ricorda Giovanni nel prologo venne tra i suoi in propria venit mentre la resa dell'italiano comprensibilmente esprime una prossimità affettiva intuitivamente riconducibile ai rapporti parentali i suoi sono quindi per lo più i suoi cari i suoi familiari la versione latina del testo sono piuttosto emblematica ripeto in propria venit quella propria con il riferimento al neutro e l'evidente riferimento letterale alle cose come sarà anche in Giovanni 19-27 ecco quel propria rende in maniera piuttosto sorprendente il venire tra noi del verbo che è presso Dio non basta più dire che viene in mezzo a noi e in noi dove in noi indica tutta la realtà umana che il Logos assuma e presso la quale viene a prendere dimora in quel in propria venit una certa ermeneutica teologica a mio parere non senza motivi ha colto la destinazione primaria del Logos la cui gloria risplende nel mistero della carne assunta ab eterno la sua gloria è compiuta solo solo insieme a quella della carne della sua carne sicché possiamo affermare che non esiste alcun umanesimo che non sia già informato dell'impronta divina come non vi è alcuna carne che non sia destinataria della singolare prerogativa di essere riflesso della gloria di Dio del Dio per l'uomo possiamo ritenere allora ragione che la teologia ha pieno diritto di parola in quella delicata operazione che è la legittimazione di un umanesimo in cui vi sia spazio per ricomporre i molti tratti di umanità dispersa nell'unico mosaico del volto di Cristo non si tratta di un'operazione ideologica o mossa da tendenze proselitistiche né è in discussione la rispettabilità di opinioni e anche di fedi differenti ad essere implicata è piuttosto la plausibilità di un pensiero cristiano sul fatto umano se abbiamo cioè diritto noi di dire che la Chiesa è maestra in umanità perché non perché ci mettiamo noi questo distintivo che poi nessuno ci riconosce ma dobbiamo capire qual è il motivo questo pensiero cristiano sul fatto umano è ragionevole e proponibile nella misura in cui si riconosca il diritto a una verità dell'uomo nel mondo e se ne accettino con onestà intellettuale le conseguenze e le condizioni e qualora dunque dischiuso lo spirito o meglio lo spazio di lavoro per la teologia o comunque per la riflessione critica sulla fede sarà ad essa in questo orizzonte mostrare tutti i limiti di un modello umanistico chiamiamolo così vitrubiano per contrapporvi la sfigurata bellezza dell'uomo della sindone il modello vitrubiano nella celebre riproduzione di Leonardo raffigura l'uomo bene figuratus la cui armonia di proporzioni è infallibilmente iscritta nelle figure più perfette della geometria nell'uomo della sindone invece non vi è alcuna vera arte ma solo la possibilità di raccontare una testimonianza un evento vi è il corpo di un uomo che non è tra la vita e la morte ma tra la morte e la vita non vi è una ricerca tra proporzioni geometriche né vi è lo sviluppo di un canone che manifesti un punto di partenza per ogni artista proteso a comprendere il rapporto tra l'uomo e il mondo nella sindone vi è il confronto tra la storia di un evento quello di Cristo nato morto e risorto e la comprensione di questo evento come storia di salvezza l'uomo della sindone non ha forme perfette eppure riflette una perfezione la perfezione e la pienezza dell'amore è da questa pienezza che attinge l'umanesimo cristiano ed è dalla stessa pienezza che potrà attingere la proposta di un nuovo umanesimo che veniamo invitati a vivere secondo quelle cinque vie che Papa Francesco ci ha indicato nella Evangelii Gaudium le voglio ricordare la prima l'esigenza di uscire senza paura di perdere la propria identità ma facendone anzi di uno agli altri senza che questo voglia dire rincorrere mode esotiche o correre verso il mondo senza una direzione e senza senso Evangelii Gaudium 46 attendi perché questa storia della Chiesa in uscita sta rischiando di diventare un altro slogan de responsabilizzante e comodo la Chiesa in uscita non è soltanto quella che esce dalle sagrestie già è parecchio si avviene la Chiesa in uscita visto che siamo in un luogo di cultura è anche la Chiesa capace di uscire dai luoghi comuni è una Chiesa capace di uscire dalla retorica è una Chiesa capace di uscire dal politicamente corretto uscire secondo l'esigenza di annunciare annunciare senza timore ma senza arroganza né timidezza noi ricordiamo sempre la prima di San Pietro capitolo 3 versetto 15 siate sempre pronti a dare ragione della vostra fede e ci fermiamo là compresi i professori di teologia fondamentale appresso dice fatelo in maniera educata perché non c'è verità che giustifichi l'arroganza non c'è verità che giustifichi atteggiamenti di prevaricazione nei confronti di chiunque annunciare senza timore ma senza arroganza né timidezza l'esigenza è di abitare abitare i luoghi dell'umano dal creato la nostra casa comune dice Francesco alla città dalla famiglia agli spazi virtuali dischiusi dalle nuove comunicazioni abitare gli spazi della famiglia i due sinodi culminati dell'amoris letizia questo fanno abitare i luoghi della famiglia molto spesso sono luoghi belli da vedere belli da praticare molto spesso anche sono luoghi nei quali c'è sofferenza c'è fatica fatica ad andare avanti voglia di non mollare e non si risolvono i problemi dicendo no tu stai fuori tu non mi appartieni a te non ho da dire niente tu ormai sei finito quando Francesco dice chi sono io per giudicare a parte tutte quante le stupidate che sono state dette vuole dire una sola cosa chi sono io per dire che la tua storia è compromessa una volta per sempre chi sono io per dire che per te non c'è possibilità di rimetterti in cammino ecco questo vuol dire abitare i luoghi dell'umano e saperli abitare senza arroganza senza presunzione l'esigenza di educare di educare evangelizzando con rispetto e gradualità è l'esigenza di trasfigurare promuovendo la bellezza plasmando il mondo con mani sapienti e con mani responsabili io penso che nessuna di questi torniamo alla teologia padre Sandro nessuna di queste vie estranea alla teologia chiamata anch'essa a vario titolo a ripercorrere questi cinque verbi queste cinque esperienze la teologia che è chiamata ad abitare ad uscire dalla autoreferenzialità ad annunciare la credibilità della fede che la informa ad abitare spazi civili e sociali dai quali spesso si trova marginalizzata e non sempre per colpa degli altri basta con queste forme di piagnistei di vittimismi fuori posto molto spesso nell'altra vita quando ero chiamato a giustificare il perché non c'è la teologia nelle università statali ho dovuto ricordare che quando è stata messa fuori la teologia ci stavano sette studenti di teologia in tutta Italia nelle facoltà teologiche ma perché perché dall'altra parte avevano organizzato bene la cosa secondo il motto napoletano chi si punge esce fuori perché chiamavano ad insegnare teologia o gente che era chiaramente contro la chiesa ecclesiastici che era chiaro oppure qualche scemo però che avevi titoli perché si possono avere i titoli in teologia ma è come per anche per l'ordinazione va bene perché se io sono un cretino e mi vengono messi le mani in testa e anche la mitra in testa io sono un cretino che ha avuto le mani in testa e la mitra in testa ma resto quello io no? resto quello è chiaro questo fatto allora ecco io penso che sia importante un po' anche smetterla con questa cioè con la nostra con la qualità della nostra ricerca con la capacità anche di investire in tutto questo noi dobbiamo recuperare degli spazi dobbiamo abitare certi spazi ma vado avanti ancora la teologia certamente appartiene il compito di educare a uno sguardo attento e critico sul Dio per l'uomo sull'uomo stesso e sul mondo come anche appartiene il trasfigurare la speculazione ed il pensiero stesso per farne voce di una bellezza io direi quasi sacramentale quella della parola che risuona incessantemente nelle parole umane e allora chiudo tenendo sullo sfondo le considerazioni che ho fatto fin qui possiamo cogliere tutta la forza presente negli impegni che Francesco ha consegnato alla Chiesa italiana a Firenze alla quale al quale il discorso faceva riferimento il padre Sandro all'inizio ecco leggo questo tratto del discorso di Francesco questi passaggi del discorso di Francesco e li affido a voi come conclusione a Firenze il 10 novembre 2015 Francesco diceva la Chiesa italiana sia una Chiesa libera e aperta alle sfide del presente mai indifensiva per timore di perdere qualcosa nemmeno l'otto per mille mai indifensiva per timore di perdere qualcosa ah mi sono distratto eh no perché qualcuno si deve dare una fissazione questa e incontrando la gente lungo le sue strade assuma il proposito di San Paolo mi sono fatto debole per i deboli per guadagnare i deboli mi sono fatto tutto per tutti per salvare a ogni costo qualcuno ecco quest'ultima citazione di Paolo e ciò che la precede ci permettono di uscire dal generico e di colorare di realismo l'invito fatto dal Papa che continua a tutta la Chiesa italiana raccomando ciò che ho indicato in quella esortazione nell'Evangelio Gaudium l'inclusione sociale dei poveri che hanno prima ho parlato di umanesimo come stile non è una cosa campata in aria qui viene descritto questo stile che è lo stile del Dio per l'uomo l'inclusione sociale dei poveri che hanno un posto privilegiato nel popolo di Dio e la capacità di incontro e di dialogo per favorire l'amicizia sociale nel vostro paese cercando il bene comune altro che il muro contro muro che alcuni invece pensano di privilegiare come metodo veramente cattolico e più non sta scritto questo qua sopra e più avanti con Dio di Papa dobbiamo sempre ricordare che non esiste umanesimo autentico frase dell'inizio che non contempli l'amore come vincolo tra gli esseri umani sia esso di natura interpersonale intima, sociale politica o intellettuale su questo si fonda la necessità del dialogo e dell'incontro per costruire insieme con gli altri la società civile noi sappiamo conclude il Papa noi sappiamo che la migliore risposta alla conflittualità dell'essere umano del celebre homo homini lupus di Thomas Hobbes è l'ecce homo di Gesù che non recrimina ma accoglie e pagando di persona salva grazie allora avevo detto a Padre Barlone che volevo essere presente nel primo martedì della Gregoriana per diversi motivi innanzitutto perché questo ciclo di conferenze organizzato dal centro fede e cultura Alberto Urtado è ormai una realtà consolidata che attrae un pubblico numeroso fedele che vorrei salutare e ringraziare e penso anche che attraverso questo ciclo di conferenze come in altri eventi l'Università Gregoriana si apra ancora una volta alla città di Roma e alla realtà della Chiesa locale penso che questo servizio offerto dal centro Urtado sia di grande importanza e perciò sono grato al Padre Barlone per l'organizzazione di questa iniziativa che arricchisce tutti noi e penso che possiamo anche dire che abbiamo in questo modo alla Gregoriana un ulteriore esempio di attenzione alla realtà ecclesiale italiana che è quella in cui siamo inseriti è un'attenzione e un'apertura che per noi non si contrappone per niente al servizio che ci contraddistingue cioè il servizio alla Chiesa universale e alle Chiese di tutto il mondo formando qui in Gregoriana studenti provenienti da circa 120 paesi diversi e questo dialogo tra l'universale e il locale tra il lontano e il vicino è di grande importanza per tutti e senz'altro fa parte della missione dell'università gregoriana e questo lo rilevava anche Papa Francesco nell'udienza che ci ha concesso il 10 aprile 2014 in quel giorno il Santo Padre ci esortava a valorizzare il luogo stesso in cui lavoriamo e studiamo cioè la città e soprattutto la Chiesa di Roma consci della ricchezza del suo passato ma anche della ricchezza del suo presente per tutti questi motivi volevo approfittare questa occasione per ringraziare tutti voi il Padre Berlone Barlone e salutare Sua Eccellenza Monsignore Nonzio Galantino che ci ha onorato oggi con la sua presenza la sua testimonianza e il suo insegnamento la ringrazio molto per la sua presenza eccellenza e per la sua disponibilità di essere qui questo pomeriggio questa sera con noi grazie di cuore grazie